Ben trovati al nostro appuntamento con Icaro Tg Mattina, tutte le informazioni grazie anche al nostro sito newsrimini.it dove l'apertura in questo momento è dedicata alla politica, la politica riccionese, elezioni annullate e Consiglio di Stato rinvia al merito. Si decide tutto il prossimo ottobre. Ieri c'era grande attesa per capire se sarebbe stata accettata o meno la richiesta di sospensiva presentata dalla coalizione Angelini dopo la sentenza del Tar. Le cose sono andate diversamente, ma sentiamo i dettagli. Il destino amministrativo di Riccione si deciderà il 10 ottobre nell'udienza di merito davanti al Consiglio di Stato e quanto ha deciso oggi il collegio che era chiamato ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva avanzata dalla coalizione Angelini nell'ambito dell'appello presentato dopo l'annullamento del voto 2022 decretato a giugno dal Tar. Il Tribunale amministrativo si era espresso a seguito del ricorso presentato dalla Lega, ravvisando irregolarità gravi e macroscopiche nell'ambito delle operazioni di voto. Una sentenza ritenuta stravagante dalla ex maggioranza che ha più volte ribadito l'inconsistenza delle accuse. Nell'udienza odierna però il Consiglio di Stato di fatto non ha trattato la richiesta di sospensiva, suggerendo invece caldamente ai legali della coalizione Angelini e della controparte di accettare il rinvio al merito, fissando l'udienza alla prima data utile. L'obiettivo del collegio è decidere tutto in un'unica soluzione. Almeno fino al 10 ottobre la città resta quindi amministrata dal commissario Rita Stentella. Prendo atto con serenità della decisione, commenta la ex sindaca Angelini, spiegando che l'obiettivo resta quello di ottenere una sentenza giusta che riconosca la legittimità delle elezioni. La coalizione che la sostiene torna invece a puntare il dito sulla Lega, che avendo perso malamente le elezioni, attacca, ha preferito presentare ricorso al Tar per provare a mandare tutto a monte senza curarsi delle conseguenze per la città. Accuse quasi ribaltate dal centro-destra. Secondo gli esponenti di Fratelli d'Italia, Paolini e Mignani, infatti, se il centro-sinistra non avesse presentato appello, ad ottobre si sarebbe già potuto votare. È diritto di chiunque appellarsi alla giustizia, chiosa Mignani, ma se lo fanno gli altri sono irresponsabili, se lo fanno loro è un sacrosanto diritto. Accogliamo la fissazione dell'udienza del 10 ottobre molto positivamente e con estrema fiducia e serenità, commenta Pullet, portavoce delle liste civiche di centro-destra, che sottolinea anche come la campagna mediatica della coalizione Angelini, portata avanti nelle ultime settimane, non abbia di fatto dato frutti. La cronaca da Napoli a Riccione Cattolica, ho visto due bomboloni saporiti, questo tra virgolette, condannata la basista della banda dei Rolex. Diciamo che i bomboloni era il linguaggio in codice per identificare questi orologi di pregio. Nell'estate 2019 rapinarono a Riccione due passanti, strappando dal loro polso un Patek Philippe da 25 mila euro e un Rolex Daytona da 26 mila. La banda di Campani, composta da tre uomini, 24, 30 e 40 anni, tutti residenti a Napoli, e da una donna di 47 residente a Cattolica, è stata sgominata dai carabinieri del nucleo operativo di Riccione. La 47enne napoletana, zia di uno degli autori materiali delle rapine, è stata condannata in primo grado a 5 anni e 9 mesi di reclusione dal Tribunale di Rimini. Per concorso in furto con strappo e rapina, era lei infatti la basista della banda. Secondo i riscontri degli investigatori, dava supporto logistico, vale a dire la sua abitazione a Cattolica, ma anche il mezzo per compiere le rapine, uno scooter Honda 125 e qualche volta forniva anche delle indicazioni sulle eventuali prede, come testimoniato dalle intercettazioni telefoniche, dove con la parola bomboloni saporiti si faceva riferimento agli orologi di pregio. C'è una nuova allerta meteo per la giornata di oggi, in realtà le cose sono un po' diverse nella Romagna, perché c'è la provincia di Rimini che nonostante qualche piccolo disagio, ma si parla di una quarantina di interventi dei vigili del fuoco nella notte tra lunedì e martedì e poi nella mattinata anche di ieri e di rami spezzati lungo le strade e non ha avuto particolari disagi. C'è una situazione invece nel resto della Romagna che anche ieri ha visto gravi disagi legati al maltempo, con tetti scoperchiati, alberi caduti e cartelli divelti. Fatto sta che per la giornata odierna è prevista una nuova allerta, il meteo è da tenere d'occhio, questo ieri recitava una nota della protezione civile, si parla di un'allerta gialla per la giornata di oggi con dei temporali anche forti sulla fascia costiera, sulle zone di pianura, sui rilievi orientali. In realtà nel Riminese da qualche possibile pioggia in mattinata poi la situazione dovrebbe andare migliorando. Si parla anche di venti di burrasca moderata e fino a 74 km da nord-est con rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia costiera, questo recita il bollettino diramato nel pomeriggio di ieri dalla protezione civile regionale. Invece non è un bollettino ma sono delle lettere, quelle che stanno arrivando a casa di molti utenti della strada, sia riminesi che non riminesi. 7 mila entrati senza permesso nella ZTL di Rimini Nord. Al momento non scatteranno sanzioni ma quando il sistema andrà a regime in realtà tutti questi passaggi non dovuti saranno sanzionati come prevede il codice della strada. Ma sentiamo in questo momento come si sta comportando il comune di Rimini. Sono ben 7 mila gli automobilisti che sono passati senza permesso nella zona traffico limitato del parco del mare nord a Rimini. A loro l'amministrazione ha inviato una lettera nella quale viene dato conto della violazione o delle violazioni registrate dalle videocamere avvisando che quando la fase di test sarà conclusa l'irregolarità darà luogo alla sanzione prevista dal codice della strada. Al momento però nessuna multa. La nuova regolamentazione della circolazione è attiva nei fine settimana da Pasqua e dal primo giugno tutti i giorni 24 ore su 24 e interessa i lungomari che si estendono tra Riva Bella e Torre Pedrera. I 7 mila trasgressori spiega l'amministrazione sono equamente divisi tra residenti della provincia di Rimini e di altre province. La lettera è anche un ulteriore sollecito agli aventi diritto a richiedere il permesso per accedere alla ZTL. Nelle quattro aree Riva Bella, Biserba, Biserbella e Torre Pedrera, l'accesso è riservato a residenti e domiciliati, ai non residenti che hanno posti auto, ai clienti degli alberghi per solo carico e scarico e per accedere a parcheggi delle strutture ricettive e delle attività economiche della zona. Solo in determinate fasce orarie possono accedere commercianti e artigiani che hanno una loro zona di pertinenza nella ZTL. Ci spostiamo a Cattolica. Dopo la messa in sicurezza riapre il ponte sul tavolo. Dopo la lunga attesa ha riaperto ieri il ponte sul tavolo che unisce Cattolica a Gabiccemare. Vediamo nella foto proprio il simbolico taglio del nastro da parte delle due amministrazioni, insieme appunto ai sindaci Franca Foronchi di Cattolica e Domenico Pascuzzi di Gabiccemare insieme alle rispettive giunte. L'intervento si era reso necessario a causa della situazione di pericolosità ed è stato realizzato in collaborazione tra le due amministrazioni comunali per un totale di 450 mila euro. Sono state rafforzate le travi di impalcato e ripestinati i copriferi ammalorati. È stata anche realizzata una nuova passerella pedonale. La nuova opera, parzialmente a sbalzo sul fiume, richiama per colori e stile il nuovo lungomare di Cattolica. Ricordiamo che proprio Cattolica ha inaugurato non più tardi della scorsa settimana il suo nuovo, come si dice utilizzando un inglesismo, Waterfront, tra l'altro la presenza anche del Presidente della Regione. Tra le pieghe di un comunicato diffuso da ferrovie dello Stato invece sembrano arrivare delle buone notizie per il futuro delle officine ferroviarie di Rimini che dovrebbero diventare un atelier per vecchie vetture, si parla di treni, degli anni 80 e 90. Ma sentiamo di cosa si tratta. Dopo anni di incertezze sembra diradarsi, almeno un po', la nebbia sul futuro dell'ex officina grandi riparazioni di Rimini, una struttura con oltre 110 anni di storia e 230 lavoratori attualmente impiegati. Tra le pieghe del comunicato con cui le ferrovie presentano la nuova società FS Treni Turistici Italiani, vengono infatti citate le officine ferroviarie di Rimini che dovrebbero diventare una sorta di atelier del refitting per riqualificare e ammodernare le vetture dei treni espresso anni 80 e 90 che serviranno poi, tratte a medio e lungo raggio, per collegare le principali città italiane alle località turistiche. I treni, così trasformati, dovranno offrire ambienti di servizio differenziati come carrozze e ristorante con cucina a bordo, vetture letto e meeting, ma anche bagagliai per trasporto bici e sci. È certamente una buona notizia vedere delinearsi una strategia per continuare a dare lavori e prospettive alle OGR riminesi, commenta l'assessore Roberta Frisoni, che invita però le ferrovie ad attivare il prima possibile gli investimenti prospettati e necessari già nel breve periodo ad implementare le attuali lavorazioni in essere e poi nel medio a creare le basi per nuove opportunità. Negli scorsi anni i comuni di Rimini, i sindacati e la regione avevano più volte sollecitato Trenitalia a rispettare l'accordo sottoscritto già nel 2019 che prevedeva la riqualificazione del sito produttivo riminese. L'auspicio è che questa volta si dia reale seguito agli impegni presi. Andiamo sulle strade per parlare di taxi. Il presidente della Confcommercio Gianni Indino parla di una mancanza atavica di taxi a Rimini. Dopo la segnalazione arrivata nei giorni scorsi anche alla nostra redazione per quanto riguarda un problema legato ai taxi in aeroporto con lunghe attese e taxi di fatto che non sono arrivati, il problema viene fatto proprio anche dal presidente della Confcommercio provinciale Gianni Indino. Si chiede a tutti, scrive, di lavorare per migliorare l'offerta turistica ma da decenni subiamo la mancanza atavica di taxi sul territorio. Non possiamo più esimerci, dice Indino, di metterci al passo dei nostri competitor internazionali. Dieci anni fa avevamo presentato un progetto fermato dal muro alzato dai tassisti, siamo pronti a riproporlo e a dialogare per creare le giuste condizioni affinché anche il nostro territorio si avvicini al servizio delle altre destinazioni turistiche europee. Indino, come segnalato anche alla nostra redazione, parla delle difficoltà di chi arriva a Rimini in aereo e poi fatica a lasciare l'aeroporto per arrivare in hotel, con gli albergatori costretti a soluzioni estemporanee per sopperire al disservizio facendo di necessità virtù e, cosa ancora più grave, si presta il fianco all'arrivo degli abusivi di cui poi ci si lamenta, dice ancora. Spiegando che il problema non è comunque solo riminese, il presidente di Confcommercio sollecita anche il governo ad intervenire. C'era stato un tentativo bloccatosi miseramente, dice dopo qualche giorno di battaglia, ma ora è il momento di tenere il boccino fermo sulle necessità del paese e di quel turismo che cuba il 13% del PIL e non può più permettersi situazioni vicine all'imbarazzo. E sicuramente invece un tassello in più per il turismo riminese, il nuovo campeggio che ieri ha vissuto il suo taglio del nastro, anche se in realtà era già operativo da qualche tempo, è stato completato a Viserba il Rimini Family Village. Noi c'eravamo all'inaugurazione, vediamo. Dopo due anni di lavori, giornata di inaugurazione per il Rimini Family Village del Club del Sole sul lungomare di Viserba. Molti gli investimenti fatti anche nel 2023 per rendere la struttura che dà lavoro ad una novantina di persone, la maggior parte giovani, sempre più appetibile. È una struttura che abbiamo rinnovato completamente rispetto ai vecchi canoni del campeggio classico, per cui ci sono solo lodge con tutti i servizi e tutti i comfort, dalla climatizzazione al bagno con box doccia a due o tre camere, abbiamo un parco acquatico, una piscina ed è una delle pochissime strutture in Italia, noi ne abbiamo cinque con questo servizio da quest'anno, una piscina dedicata ai cani. Quando ci si mette insieme, pubblico e privato, ognuno per le proprie competenze, le proprie responsabilità e si fanno insieme delle cose nuove, si colgono delle sfide come queste, è sempre motivo di soddisfazione. Riqualificata anche la spiaggia antistante alla struttura, aperta così come i campi da padel, anche ad ospiti esterni. Il Club del Sole ha fatto una scommessa importante, devo dire, perché in questo clima, ai medi di incertezza che c'è ancora su tutto il tema demaniale, hanno deciso di investire sulla spiaggia antistante e quindi ci sono nuove strutture, proprio attraversata la strada, a servizio non solo dei clienti del camping, ma in realtà poi di chi ne vuole beneficiare. Dopo una partenza di stagione non facile, ora i numeri sono incoraggianti, ad agosto si supera il 90% di riempimento e sono buone anche le prospettive per settembre. Il 40% degli ospiti sono stranieri, in gran parte del nord Europa. La partenza è stata difficilissima, purtroppo quando dovevamo aprire e iniziare la stagione col botto, perché quest'anno Pentecoste, che è il periodo di prime ferie importanti dei mercati del nord Europa, noi eravamo già con un'occupazione altissima, è arrivata l'alluvione e ci ha costretto a slittare l'apertura di tre settimane. Adesso che finalmente siamo aperti dal 15 giugno, vediamo che le prenotazioni stanno arrivando, la clientela sta rispondendo bene, siamo ottimisti per questa parte rimanente di estate e naturalmente stiamo cercando di seminare per il futuro, perché pensiamo e speriamo di poter avere il nostro spazio sulla costa riminese. Sempre dalle pagine del nostro sito, 50 automobilisti fermati, uno su due aveva alzato il gomito. Il bilancio dei controlli del fine settimana della Polizia Locale di Rimini, controlli che si sono svolti in due distinti posti di blocco, uno in zona mare, in piazzale Boscovici e uno invece più nell'entroterra, siamo in via della Grotta Rossa. Come detto, 50 sono stati gli automobilisti fermati, 23 di questi hanno visto la patente sospesa per guida in stato Debrezza. Sant'Arcangelo, rifiuti mal conferiti, anche nella città clementina arrivano le fototrappole. A Sant'Arcangelo si stanno concludendo le procedure per l'attivazione del sistema di fototrappole che saranno posizionate entro fine mese in prossimità delle isole ecologiche. In particolare tre videocamere a sensori presidiranno le isole dove si verificano più spesso illeciti, così da individuare e sanzionare chi non conferisce in modo corretto i rifiuti. Saranno installate per circa 30 giorni a rotazione nelle aree individuate dall'ufficio ambiente sulla base delle criticità riscontrate e permettono quindi di rilevare in tempo reale i movimenti, scattare foto a colori di giorno e in bianco e nero di notte, anche in caso di assenza totale di illuminazione, inoltre anche alle eventuali targhe che vengono rilevate dalle fotocamere. Concorso a Rudolf Nure, Ierra Rimini, i ballerini dell'Opera di Parigi e le giovani promesse. Tra queste giovani promesse c'è anche il quindicenne Benjamin Imerowski, un giovane ballerino riminese che grazie al concorso Nure sta studiando all'Ecole du Ballet dell'Opera di Parigi. Si tratta della quarta edizione del concorso, un concorso in programma fino alla 30 di luglio. Vediamo i dettagli in questo servizio. Io ho cominciato in una scuola qua a Rimini, all'Aulos Danza di Rimini. All'inizio facevo basket e quindi lasciare il basket per cominciare la danza subito mi è stato difficile, però alla fine ho scelto la via della danza perché sono stato convinto da quest'arte meravigliosa e stare sul palco soprattutto. È come se parlassi con te stesso e espandi la tua voce alle altre persone, diciamo. Il quindicenne Benjamin Imerowski, riminese con genitori macedoni, forse non sa di essere speciale o forse lo sa benissimo. Benjamin, grazie al concorso Nureyev, sta studiando all'Ecole du Ballet dell'Opera di Parigi e incarna perfettamente tutti i sogni e le intenzioni che aveva il più celebre danzatore del XX secolo e che è anche l'obiettivo del concorso a lui intitolato. Questo stage, per la sua particolarità, non è come tutti gli altri stage di danza che ci sono in Italia, Francia, Europa e nel mondo. Noi celebriamo quello che Nureyev, questo immenso danzatore, ha voluto, trasmettere il suo lavoro alle nuove generazioni. Quindi abbiamo scelto dei grandi artisti che hanno lavorato con lui, delle Toiles dell'Opera di Parigi, che in questi giorni trasmetteranno ai giovani questo lavoro. E in quattro anni, cioè in tre anni, perché è successo l'anno scorso, abbiamo scoperto quello che noi chiamiamo un fenomeno, che merita esattamente quello che Nureyev aveva in testa, cioè favorire una persona che ha tutte le qualità per mettersi alla prova con delle coreografie, che sono le più difficili al mondo. 20 candidati in concorso tra i 15 e i 24 anni, provenienti da Italia, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Russia, Lituania e Giappone. Per loro, premi di categoria e stage in grandi scuole o compagnie internazionali e un Grand Prix attribuito all'allievo o all'allieva più meritevole. A conclusione della Masterclass Collettuale, domenica 30 luglio al Teatro Galli, lo spettacolo aperto al pubblico con la partecipazione straordinaria di Naïs Duboch e Francesco Mura, primi ballerini dell'Opera di Parigi, dove speriamo di vedere brillare presto anche la stella di Benjamin. C'è un consiglio in questi anni che ti è servito più degli altri? Sicuramente è lavorare ogni giorno, perché un giorno in meno nella danza vuol dire perdere totalmente le qualità fisiche, in sostanza, quindi sicuramente lavorare ogni giorno e farlo al massimo. Siamo adesso alla pagina sportiva per parlare della campagna acquisti di Riviera Banca Basket Rimini, un altro Johnson per RBR che riporta in Italia Justin Blake. Il mercato di Riviera Banca si chiude con un colpo a effetto, portando in arriva all'Adriatico un giocatore reduce da esperienze in A1, Bundesliga e Coppe Europee. Riviera Banca comunica di aver raggiunto un accordo biennale con lo statunitense Justin Blake Johnson, operazione Lampo, perché verificata la disponibilità del giocatore, l'accordo è stato raggiunto nell'arco di 24 ore. Per la Riviera Banca si tratta di un annuncio di grande prestigio. Si riporta in Serie A2 un giocatore che nelle sue ultime esperienze ha militato in Serie A con una stagione a Pistoia e due a Reggio Emilia lo scorso anno in Bundesliga con un club tedesco con cui ha preso parte anche all'ultima Champions League. Si parla di un giocatore del 96, alto 201 centimetri, che ha iniziato la sua carriera professionistica una volta uscita dall'Università di Western Kentucky proprio in Italia in A2 a Cagliari e adesso appunto il ritorno in A2 con la maglia dei Krebs. Una notizia anche di calcio, meglio insomma un motivo in più per darvi appuntamento alla mattinata di domani perché giovedì, domani su Icaro TV ci sarà la diretta della presentazione del Rimini Football Club. Un Rimini che è sceso in campo per la prima volta nella giornata di ieri, nella sgambata diciamo con la bagnese assegnando anche 15 gol. Domani alle 11.45 al Teatro Galli, in diretta anche su Icaro TV, ci sarà la presentazione della neopresidente del Rimini, Stefania Di Salvo, che proprio oggi dovrebbe arrivare in città e nel nuovo organigramma societario. Come detto, diretta dalla sala del Grifone del Teatro Galli dalle 11.45, presente anche il sindaco di Rimini, Jaminsale Golvad, a cui saranno presentate le figure dirigenziali con i rispettivi ruoli, ma anche programmi e obiettivi del Rimini Football Club, in un appuntamento sicuramente molto atteso da tutti i tifosi bianco-rossi. Chiudiamo le pagine del nostro sito per andare ad ora uno sguardo alla situazione traffico, tutto sotto controllo sulla A14, dove non sono segnalate criticità nell'ultima ora dalle pagine online di Autostrade per l'Italia. Ieri mattina invece c'erano stati dei disagi legati al vento, che non si ripropongono nella giornata odierna. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, si segnalano dei rallentamenti sulla statale adriatica, in modo particolare con ritardi rispetto al passaggio consueto intorno ai 6 minuti e poi come sempre obiettivo puntato sulla nuova viabilità, parliamo dei lavori sulla statale a punto, ma anche della nuova viabilità in zona rotatoria a Bigno, nei pressi del Palaflaminio, con alcuni rallentamenti in questi tratti. Quindi si parla di Via della Fiera e anche la chiusura di Via Uterpe ovviamente non sta aiutando in modo particolare nelle ore di punta, ma ricordiamo anche che si tratta di zone monitorate sempre in questa prima fase di cantiere, dalle forze dell'ordine, nella fattispecie dalle pattuglie della polizia locale. In chiusura diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo, che per chi non sopporta il caldo danno notizie positive. Sappiamo quanto accaduto, ve ne abbiamo parlato ieri con l'ondata di maltempo, che tralasciando di fatto la provincia di Rimini invece ha colpito in maniera forte, nuovamente, buona parte della Romagna. Per quanto riguarda la giornata di oggi, erano possibili nelle prime ore del mattino delle precipitazioni temporalesche nel settore di nord-est, che tenderanno ad interessare poi l'intero territorio regionale, fenomeni più probabili sulle aree pianeggianti e sui rilievi orientali, a cui seguirà una nuvolosità variabile, localmente più compatta, sui rilievi orientali. Questo si legge sul sito di Arpae, con residui piovaschi nel resto della giornata. Poi dal pomeriggio e nelle ore serali la situazione dovrebbe andare via via migliorando fino a tornare il sereno. Focus sulle temperature, minime tra 19 e 22 gradi, massime in diminuzione tra i 26 gradi della costa e i 31 sulle aree di pianura. Venti occidentali al mattino, rinforzi sul mare di moderata o forte intensità, e poi in rotazione nel corso della giornata fino a divenire orientali nelle ore pomeridiane e serali. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, dove continuerà a splendere il sole invece su tutta la regione e per quanto riguarda le temperature si parla di ulteriori diminuzioni con le minime intorno ai 18 gradi, mentre le massime in lieve aumento 28 gradi sulla costa, 33 sulle aree di pianura. Ricordiamo che la giornata odierna e quella di domani erano date come giornate di tregua e questo si sta verificando rispetto all'afa dei giorni scorsi, da venerdì si parla di un ritorno graduale invece delle temperature alte, ma di questo appunto vi daremo conto nelle prossime giornate. Siamo arrivati in conclusione con il nostro appuntamento con i carotigi mattina, tra pochissimo ci ritroveremo negli studi di tempo reale estate. Buon proseguimento di mattinata. Buon proseguimento di mattina.